Nella splendida cornice dell'Anfiteatro Romano di Avella si è tenuta la quinta edizione del premio Artis Suavitas, il prestigioso riconoscimento destinato a coloro che hanno contribuito in Italia e all'estero alla diffusione della cultura e del sapere. Il premio, pensato e voluto dall'Associazione Artis Suavitas, presieduta dall'Avvocato Antonio Larizza, all'obiettivo di insegnare le personalità che con coraggio, impegno, sacrificio e dedizione si sono particolarmente distinte con risultati meritori e tangibili. Tra i premiati di quest'anno Malika Ayan, Massimiliano Fuxas, Roberto Giacobbo, Linton Johnson, Pia Lanciotti, Giovanni Liccardo, Mogol, Lorenzo Quinn, Liliana Segre, D'Giacal, Valentina Vignali, Mario Zanetti e Gigi D'Alessio. Ringrazio l'organizzazione per aver scelto me tra i tanti premiati. Ovviamente nella vita bisogna fare i sacrifici, bisogna amare quello che si fa e bisogna studiarlo. Qualsiasi cosa si fa, si fa la musica, si fa medicina. Quindi io do un consiglio di non seguire il successo, di seguire la propria passione. Il massimo della vita si raggiunge quando la propria passione diventa anche il proprio lavoro. Madrina della serata condotta da Alessia Mancini è stata Martina Stella. Sono felicissima, sono anche un po' emozionata perché comunque ci sono davvero dei grandi, delle grandissime eccellenze. Nel comitato scientifico che ha selezionato tutti i premiati anche Iginio Massari. La qualità si vede anche dall'aspetto, anche se delle volte all'occhio ha una parte di inganno nei nostri organi. Vedi una cosa molto bella, magari poi ti delude, ma quelli non sono dei veri professionisti. Quest'anno un'emozione è ancora più forte per l'avvocato Larizza, dato che per la prima volta la serata si è svolta nella sua città, Avella. Un premio che cristallizza l'autorevolezza di un progetto secondo me che è legato ai giovani, legato a un discorso di eccellenza, ma soprattutto legato al patrimonio inestimabile che questa regione ha, possiede, che molto spesso viene scarsamente valorizzato. Oggi siamo in un luogo magnifico della nostra regione, siamo in un anfiteatro, in uno scenario straordinario, considerato forse impropriamente un sito minore e questo è quello che dobbiamo cercare di cambiare. Riccardo e io vi ringrazio per essere...